Ciao a tutti e buona festa delle streghe! Io sono Federica, vi do il benvenuto sul mio canale Veri ASMR, quello che state per ascoltare è un nuovo video ASMR rilassante, in particolare oggi voglio mangiare insieme a voi il mio menù di Halloween, ho preparato per l'occasione dei jeep abbastanza spaventosi, che ne dite? Prima di iniziare e di illustrarvi il mio menù, vi invito a indossare le cuffie oppure gli auricolari e a mettervi comodi, naturalmente lasciate un mi piace se questa idea vi piace e iscrivetevi al canale nel caso non siate ancora iscritti e vogliate vedere altri video rilassanti bene, iniziamo! Allora, il menù di oggi prevede delle spaventosissime pizzette con sopra un grosso ragno, vedete? le insetto pizze, ovviamente mangerò la pizzetta, ma anche il ragno! poi abbiamo delle mummie hot dog preparate da me, vedete? sono degli hot dog mummificati con tanto di occhi e ovviamente tutte queste pende, loro li custerò insieme alla mia salsa al sangue irrinunciabile ah, se sentite già degli eating sounds in sottofondo è Jesse che sta mangiando anche lui ma il mio menù è più privato, abbiamo poi delle banane fantasma, decorate con della cioccolata una e due e il nome di queste banane è Ted e Sam ma non è finita qui c'è una zucca, una zucca biscotto ripiena di cioccolata, wow non vedo l'ora di assaggiarla una mummia al formaggio, guardate! anche lei con gli occhietti e infine un mandarino a zucca direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare a gustare queste prelibatezze direi di iniziare dalla ragno pizza intanto Jesse è salito sul tavolo anche se voi non potete vederlo ma ogni strega che si rispetti ha il suo gatto pronto a rompere le scatole? pronti? 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 potente? sono rimaste delle zampette di agno beh dai non male alla fine il ragno me lo aspettavo un po' più croccante direi di mangiare una mummia vediamo un po' se è gustosa ovviamente non può mancare la salsa al sangue bene si è piuttosto gustosa è piuttosto gustosa è piuttosto gustosa il pianto dei bambini in sottofondo fa parte dei suoni spettrali ne voglio mangiare un altro un altro dog mummia guardate che carino questo con questi occhietti fantastici che spugano dalle pende lo vedete vero? è molto forte guardate un poccolo bruato so a il suo allo a a a a a Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Approvati, loro due li risparmio, i loro nomi sono Marissa e Fernando Per ora potete ancora stare nel vostro sonno mummificato Poi sono piena di brisola sicuramente, voglio mangiare la mummia formaggio Cisbumbia Questa non credo abbia un nome, ma la chiameremo cisbumbia Vediamo un po' com'è Una molto formaggioso è molto bello Praticamente potreste mangiare solo questa gustosa Ora sento l'esigenza di cambiare un po' sapore, quindi andrò a mangiare la mia zucca mandarino E poi passeremo al dolcetto, forse le parole per ultimo perché fanno un suono meraviglioso Dell'autunno amo molto i colori In particolare questa arancia che predomina anche nel mio menù Buonissimo Come volete Il mio stomaco è proprio Il mio stomaco è un dolcetto Dolcetto a forma di zucca Ripieno di cioccolata Assaggiamo Ma quando arriva la cioccolata? Comunque Sarà Di zucca Voi avete mai preparato oppure mangiato dei biscotti alla zucca? Sì 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 Sono terribilmente, spaventosamente gustosi ok buon appetito! buon appetito! se per caso avete un po' d'ansia preparatevi un menù di questo tipo e passa la paura chi dei due mangerò? lui perché è una strana smorfia non si capisce se stia ridendo o piangendo o gridando pronti? questo era molto molto dolce beh dai conserverò marissa e fernando per questa sera insieme altre due ragno pizzette che comunque secondo me vale la pena scaldare al forno che ne dite? per renderle leggermente più croccanti e poi jack eccolo qui questa sera mangerò queste cose e ovviamente la salsa al sangue che non può mancare in ogni menù che si rispetti di halloween spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere mi raccomando lasciando un mi piace e un commentino qui sotto e noi ci vediamo come al solito si avviva al prossimo video pagine fatosi spaventosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte